Da oggi l'Abruzzo, così come il resto d'Italia, è nuovamente zona arancione. In base al decreto natale, allentate le restrizioni anti-Covid, ma solo per tre giorni. Dal 31 dicembre, infatti, e fino all'Epifania, l'Italia sarà catapultata di nuovo in zona rossa, fatta eccezione per la breve parentesi del 4 gennaio, giorno in cui si tornerà a livello intermedio. E anche il commercio riparte a Mozichi e Bocconi, tentando, in questi ultimi tre giorni di lavoro del 2020, di porre una toppa al grosso buco nei ricavi di dicembre. Dicembre è infatti il mese in cui le attività commerciali hanno più incassi. In soli 30 giorni, generalmente, si mette in cassa circa il 30% di ciò che si riesce a guadagnare in un intero anno. Ma nell'anno della pandemia, i fatturati sono stati dimezzati. I commercianti plaudono ad alcune iniziative messe in campo dal governo, ad esempio il cashback, che risarcisce del 10% i pagamenti effettuati con la carta di credito, un esperimento il cui obiettivo a lungo termine è quello di far sparire quanto più possibile il contante. Vi sono però anche dei bug nel sistema. I ristori promessi, infatti, vengono stimati confrontando il fatturato di quest'anno con quello dell'anno scorso, così da elargire la differenza, il che significa che chi ha aperto un'attività a gennaio 2020 non ha avuto diritto ad alcun tipo di indennizzo, ritrovandosi subito in mezzo alla tempesta, ancora prima di salpare. E non tutti riescono a rimanere a galla. Secondo uno studio di un'impresa, mediamente tra aprile e settembre in Italia sono fallite ben 544 imprese ogni giorno. Nel terzo trimestre del 2020, l'Istat riporta un aumento del tasso di disoccupazione di oltre l'8%, per un totale di 202.000 disoccupati in più. Molti si sono salvati dal fallimento esclusivamente grazie all'e-commerce, che ha permesso di lavorare tramite web e consegne anche nei periodi di chiusura. E i commercianti vogliono recuperare in questi tre giorni tramite gli sconti, anticipando i saldi ufficialmente fissati al 7 di gennaio. Per farlo però occorrerà attendere, presumibilmente in giornata, il via libera da parte della regione. E questi tre giorni di zona arancione sono anche occasione per esercitare in parte le libertà personali, rimane infatti il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, rimane anche il divieto di spostarsi da regione a regione, da comune a comune, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute o altra necessità. Ma perlomeno ci si può spostare liberamente all'interno del proprio comune di residenza, seppure raccomandato, se possibile, rimanere a casa.